Musica Assegnati al Comune di Cava dei Tirreni, circa 400.000 euro complessivi per il settore dell'innovazione e divisi su due progetti. E' ecosistema innovativo della regione Campania che permette ad incubatori, centri di ricerca, università ed imprese di accedere a finanziamenti per progetti finalizzati ad incentivare lo sviluppo di start-up. E' Fermenti in Comune, un progetto del Lanci dedicato a proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori. Continua sul territorio cavese, dunque, una forte sinergia ed un vincente sodalizio tra l'amministrazione comunale, le associazioni, gli enti del terzo settore e le società per la ricerca di finanziamenti che possano migliorare la città. Il nostro tempo è anche il tempo della ricerca dei finanziamenti. Noi avevamo abituati, la politica viaggiava e si muoveva su finanziamenti statali e sull'aiuto che poteva arrivare alle comunità locali, che spesso venivano, come si può dire, destinati a pioggia ai comuni. Oggi non è più così. Oggi per ricevere dei finanziamenti è necessario costruire delle partnership, costruire delle buone idee ed è quello che stiamo provando a fare sul nostro territorio, sul fronte dell'innovazione. Si è creato un sodalizio di associazioni, enti del terzo settore e società che puntualmente ad ogni bando partecipa con una o più idee per cercare di portare sul territorio delle risorse. Questo è affiancato anche ad una ricerca di nuovo personale, quindi anche di formazione nei confronti di nuove figure professionali che sono appunto i progettisti, i progettisti europei. Nell'ultima settimana, insomma due settimane, ci siamo visti assegnare circa 400.000 euro complessivi su due bandi. Uno è ecosistemi innovativi, ecosistemi digitali della regione Campania. Lì il comune compare come delivery partner, quindi non è un capofila. Appunto va da traino su questi soggetti che sono sostanzialmente tutte quelle associazioni o enti che ruotano intorno agli incubatori del territorio. Mi riferisco in particolare al Centro per l'Artigianato Digitale, al Green Hub e anche altri soggetti. Mentre l'altro che si chiama Fermenti in Comune, questo è un bando del Lanci, circa 100.000 euro, poco più di 100.000 euro, anche questo destinato alla creazione di imprese, alla creazione di valore. L'idea nel prossimo anno è creare un reticolato di incubatori che possa insieme fungere sia da formatori per cercare nuovi fondi, ma anche per scaricare sul territorio questa crescita economica con nuovi posti di lavoro e perché no anche nuove opportunità di crescita imprenditoriale.